Lui chiedeva, io nel Pressbook, ho accennato al fatto dell'uso degli obiettivi che ho visto fare su questo film, che dà una bassa, una bassezza. La mia esperienza mi è sembrato particolare e speciale, quello di inquadrare o soltanto con dei campi larghissimi, oppure stare addosso ai dettagli in un modo maniacale, precisissimo, che mi sembrava che desse ultimamente una forza alla storia che avevo letto, fondamentale. Però lavorare con questa bellezza è stata molto 2017, ci l'ho visto tutti, perché mi ha portato per me a fare cose, per me, al pensiero prima difficili, delicate, complesse, ma con lei sento bravo. Grazie. Grazie.